Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di Wolverine per la settimana 4. Sfida che potrebbe risultare difficilotta, ma in realtà non è poi così difficile. Dovete arrivare al cimitero delle sentinelle qui e dovete saltare sulle mani delle sentinelle senza toccare terra. Cioè dovete farvi tutte le mani delle sentinelle senza toccare terra. Se toccate terra dovete ripetere tutto. Quindi partite da qua. Avete davvero poco tempo a disposizione prima che atterrate. Quindi il mio consiglio è di magari utilizzare questo. Quindi in modalità rissa squadre potete tranquillamente farlo. Ma non dovete toccare terra. Cioè se toccate terra fallite. La sfida chiaramente potrebbe anche non essere considerata valida in questo modo qua. Quindi non vi resta che saltare su tutte le mani. Tutte. Ecco infatti se toccate terra siete fregati. Dovete saltare su tutte le mani. Sceglietevi l'ordine giusto. Perché se ne mancate una e cadete a terra è davvero problematico. Quindi assicuratevi magari di farla in rissa squadre. Se volete un po' di aiuto. Ecco tipo in questo modo qua. Vedete ragazzi. C'è maggiore probabilità di fare la sfida. Le mani sono queste. Quindi non potete sbagliarvi. E una volta che avete saltato su tutte le mani delle sentinelle. In questo modo qua avete completato la sfida.